Ben tornati a tutti. Oggi è mercoledì, 10 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Segno fortunato. Logica intuito in equilibrio con binomio Saturno-Nettuno. Complice il vostro astro guida Plutone in Capricorno, abbracciato al Sole e a Marte nel segno del dovere, tutto ciò che oggi andate realizzando è farina del vostro sacco. Le vostre aspettative, però, sono ben fondate, perché poggiano esclusivamente risorse personali, un buon mix di intuito e razionalità, a giudicare dal doppio trigono di Saturno e Nettuno che vi solleticano con simpatia, dopo un lungo periodo di impegni e sacrifici. Lavorando in team, pensiero logico e laterale cooperano per regalarvi soluzioni immediate, con un colpo di genio spiazzate il vostro capo, suggerendogli strategie innovative e vincenti. La coppia che sta vivendo un momento spiacevole e di preoccupazione, sarà sollevata da queste e riceverà una notizia rassicurante che produrrà serenità e pace. Tuttavia saranno possibili anche incontri e appuntamenti rinviati o diversificati. I single vanno incontro a un periodo di confortante serenità, non ci saranno grandi novità, ma sicuramente più serenità e più sollievo in qualche problema risolto. Cercate di recuperare il rapporto con amici e colleghi, alcune note stonate potrebbero, alla lunga, danneggiarvi. Giove e Venere consigliano prudenza nei rapporti con i superiori, le nuove energie che sembrano arrivare devono essere misurate e addomesticate. Finalizzate il vostro impegno al miglioramento di questi rapporti. Potreste avere un gran fastidio da persone che cercheranno di darvi fretta e tirarvi per la giacca, cercate di essere pazienti e continuare a fare le vostre cose come sempre. Farai parlare di te. Religione, filosofia e giustizia ti attireranno ma cerca di rispettare le opinioni altrui e non lanciarti in qualche battibecco per riaffermare le tue convinzioni. Oggi una persona su cui contavate potrebbe potrebbe venire meno alle promesse fatte, cercate di organizzarvi per il futuro in modo da fare a meno di questo aiuto. Vantaggi da alcune proposte che potrebbero esservi fatte proprio oggi, se state pensando di mettervi in proprio ci sono buone opportunità e Giove vi consiglia di valutare la migliore. Decisioni da prendere, decisioni da maturare. Per alcuni l'arrivo di notizie inattese diventeranno un nuovo motore propulsore, per altri potrebbero essere un boomerang. Abbiate il coraggio di riflettere su un rapporto d'amore, se trovate positività continuate pure, ma se riscontrate negatività o inganni truncate senza esitazione. E per il vostro bene. Attrazione per una persona diversa da te. Gli amici ti fanno sentire tutta la loro compagnia. Il vostro ottimismo, la vostra luminosa forza vitale, ha il potere di contagiare anche gli altri, ha la possibilità di far entrare anche chi non gode dello stesso stato d'animo nel vostro circuito di benessere e di gioia di vivere. Una raccomandazione va fatta per via del transito di Giove e Urano, che remano ora in posizione contraria al vostro segno dal toro. Prestate attenzione agli acciacchi di stagione e non esagerate a strapazzarvi troppo se vi allenate in palestra e se siete nati in ottobre. I moti planetari, comunque malgrado qualche contrarietà passeggera, continuano a spalleggiarvi. Uffa, ancora spese, non vi sono bastate quelle dei giorni scorsi? Vero che i saldi sono interessanti e con la Luna e Mercurio in seconda casa nel generoso sagittario, ne troverete parecchi che cattureranno la vostra attenzione. Non solo indumenti, anche oggettistica, piccoli pezzi di arredamento, biancheria e utensili per casa e cucina. Una vera incongruenza sgridare i vostri ragazzi, alias Nettuno in pesci, perché spendono troppo e poi essere voi i primi a dare il cattivo esempio, saccheggiando negozi e centri commerciali. Amore ed Eros. Per avere amore, amore si dà, circondando partner e figli di un'atmosfera allegra e romantica, ottenete risposte immediate, che risuonano sulla stessa frequenza. Per le storie ancora in rodaggio il piacere è la scoperta reciproca, entusiasmandovi ogni volta che trovate un punto in comune, stessi gusti letterari, culinari e artistici, ma anche progetti compatibili e identità di vedute. Giornata di alti e bassi in amore. Il vostro spirito troppo libero può sentirsi limitato o intrappolato in una relazione sentimentale da poco cominciata. Non saltate subito alle conclusioni che vi farebbero allontanare e poi chiudere, eventualmente. Sappiate prendervi un po' di aria, di spazio per ricaricarvi e vedrete che questa volta la persona che avrete scelto di tenere accanto potrebbe essere quella giusta. Lavoro e denaro. Se fare la spesa e cucinare fanno parte delle attività piacevoli, oggi vi sentite a Luna Park, nella pausa pranzo tra le bancarelle allegre e vocianti del mercato, la sera ai fornelli, intenti a sperimentare una ricetta complicata e insolita. Piacere e divertimento è la parola chiave, dal concerto al corso di ballo, oggi tutto ciò che fate alla griffe della raffinatezza. Ma ad alto costo. Occhio a non spendere più di quanto il budget non consenta. Plutone e Nettuno, Sole e Venere sono al vostro fianco per tutte e tre le decadi scorpioniche. Incassate i risultati dei vostri meriti in ufficio e vi prendete altri impegni che vi proporranno ulteriori sfide e esami da superare ma, questo, a voi non dispiacerà affatto. Benessere. Appetito robusto, si vede che lo sci e le scarpinate vi hanno fatto un gran bene, la fame però non riguarda solo la parte digerente, ma anche la mente, desiderosa di nuovi input, suggerimenti, idee e ispirazioni da meditare prima di metterle in pratica. Musica sempre, ogni canzone che vi piace e vi tocca l'anima diventa la colonna sonora della giornata. Denaro. Vi tenta un investimento in un bene immobile proposto vi da un familiare, ma ancora non ne siete proprio convinti, esitate. Prendetevi il tempo che ci vuole per riflettere e non fatevi incalzare con risposte immediate. Per lei, in amore non pensate subito a una rottura, con un dialogo leale, senza peli sulla lingua riuscite a salvare il salvabile. Per lui, fiammella tremolante della candela speziata, lei vi guarda con quel certo non so che. E poi bolero di Ravel, cenetta solleticante, champagne, e. Colore delle emozioni, blu notte. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.